Volevo portare pure mia nonna per farle conoscere Ah, vedi? Non lo so Buongiorno a tutti Però, c'è da dire una cosa Che sul pullman C'è la guida Pensavo che era il controllore, infatti già mi stavo preoccupando E quindi c'è la guida, come ti chiami? Giacomo Giacomo, applauso a Giacomo Cioè, lui fa la guida, ma non guida Ehi, Giacomo, di dove sei? E' questo di Milano Allora, la guida di Milano, sì Però ce l'ho la storiatrista Sì, ce l'hai la storiatrista Che sono di Milano La storiatrista è che anch'io ho fatto fuori sede Dove? Però da Milaese In Svizzera Sono sceso giù Dove? Giù La storiatrista è che il posto più giù che sono sceso è Parma